Con oggi sono rientrati a scuola tutti, scolari e studenti di pubbliche baritarie di ogni ordine e grado. Rientrati ma in un mare di problemi più di quanti si possa immaginare, tra taglie che hanno colpito anche la provincia di Cremona e criticità in settori strategici come l'ambito del sostegno e il personale ATA. Problemi cui la legge 107, quella che nel 2015 ha riformato il sistema scuola, non sa dare purtroppo risposte. Quello che sicuramente mettiamo in evidenza è il problema legato al precariato. Ancora mancano tantissime cattedre da coprire nella nostra provincia, penso quindi ai docenti, mancano tantissimi docenti di matematica e tantissimi docenti sul sostegno. Così come un'altra mancanza comunque che attende risposte per la quale come organizzazione sindacale stiamo lavorando, riguarda il personale ATA. Quando parlo di personale ATA per i non addetti ai lavori parlo dei collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici. La 107 per questo personale non solo non ha previsto nessun tipo di reclutamento o di formazione, ha previsto un taglio, tant'è che anche la nostra provincia è stata coinvolta da questo taglio. E inoltre la legge di stabilità ha introdotto una norma per quanto ci riguarda assurda che prevede il divieto di sostituzione di questo personale in caso di assenze. La supplentite dunque non è stata affatto debellata nemmeno a Cremona, nonostante la legge si proponesse proprio questo come obiettivo. La supplentite non è stata assolutamente debellata, anzi quello che possiamo dire nelle nostre scuole, quindi anche nella nostra provincia, abbiamo più supplenti rispetto agli anni precedenti, questo perché siamo sempre più convinti che manchi una visione veramente del problema. Sono comunque altresì convinta che un governo che sceglie di non investire nella scuola e nell'istruzione ha già perso. Tra tutti ricordo che il nostro contratto è scaduto ormai da otto anni. La situazione è critica, appunto tale per cui nessuno si illude di risposte in tempi brevi. Allora, sicuramente in tempi rapidi no, noi stiamo lavorando. Una cosa che abbiamo sempre chiesto al governo è il confronto, cosa che comunque negli ultimi soprattutto due anni è mancato. L'anno scolastico è appena iniziato dunque, ma è partito già in salita.